Tra i prodotti più attesi dell'anno c'è il nuovo Sony, si chiama XZ Premium. Quello che vedete nelle mie mani è un telefono molto interessante, perché è un telefono ricchissimo con una dotazione tecnologica davvero di tutto rispetto. E' il Sony Xperia XZ Premium, un nome che per me è uno scioglilingue difficile da pronunciare, che ha tutto sommato una dimensione piuttosto generosa, se teniamo conto che il display è da 5,46 pollici, diciamo una dimensione complessiva identica a quella dell'iPhone 7 Plus. E sappiamo insomma che iPhone di solito viene considerato piuttosto grandicello come dimensione. Vedete che la cornice superiore e quella inferiore sono abbastanza voluminose. Nel complesso poi il telefono invece secondo me è molto gradevole, pesante 190 grammi. Viene reiterata una nuova edizione di quello che viene chiamato l'Omni Balance, questo modo di bilanciare il telefono praticamente con una forma simmetrica molto bella tra la parte superiore e la parte inferiore. In questo caso tra l'altro con una soluzione invece sul retro fosse difficile da rendere con la fotocamera, con la videocamera che ha una superficie riflettente che nel caso della versione grigia, silver, è praticamente un vero e proprio specchio. E poi la fotocamera che potete vedere praticamente non ha sbalzo rispetto al telefono, telefono che poi viene accompagnato dal flash a due toni. A proposito tra l'altro di fotocamera, dobbiamo andare a vedere anche la parte anteriore del telefono, che è dotato addirittura di una fotocamera frontale, la vediamo qui insieme, da 13 megapixel. Pell'altro vedete doppio altoparlante per la riproduzione del suono in stereofonia. Su questo lato c'è un sistema che piuttosto, non lo apro adesso perché altrimenti farebbe il restart del telefono, si può togliere senza bisogno del piripacchio, quindi si apre il cassettino e appare immediatamente la slitta della microSD. Invece si va ad estrare poi un ulteriore cassettino che contiene la nano SIM. Questo lato invece con il famigerato volume rocker, il pulsante di accensione che nasconde anche il sensore per le impronte digitali e poi come spesso accade sui Sony, vedete c'è anche il tasto di accensione della fotocamera. Allora, sono tanti gli elementi che fanno di questo telefono un prodotto davvero eccellente. Dentro c'è uno Snapdragon 835 con 4 giga di RAM, c'è una batteria da 3230 mAh, secondo me con una resa tra l'altro con un'autonomia davvero notevole. Si può arrivare fino a circa 6 ore di schermo acceso che secondo me per questo genere di prodotto è assolutamente notevole. A proposito dello schermo, voglio farvi vedere questo display da 5,46 pollici che è un display 4K HDR, una leggibilità che è veramente al limite dell'impossibile. E vi voglio far notare anche intanto Android 7.0 a bordo con tantissime personalizzazioni. Devo dire che una delle cose che mi piacciono molto di questo telefono è il fatto ad esempio che il launcher ufficiale sia stato reso molto più sofisticato di quelli che di solito si trovano a bordo di uno smartphone. Vedete, potete scegliere le transizioni, la dimensione della griglia che volete utilizzare. Poi avete delle personalizzazioni che riguardano ad esempio le dimensioni delle icone e anche l'aspetto delle icone, la possibilità di mostrare i nomi o meno delle applicazioni. Insomma, davvero il launcher di Sony finalmente è diventato un po' più sofisticato e più facile da gestire. Android 7.1 a bordo con tantissime personalizzazioni nell'aspetto ad esempio attraverso i motivi. Questa è la selezione dello sfondo. Vedete, per quanto riguarda il display potete scegliere anche il tipo di gamma di colori e soprattutto di contrasto. Quindi io ad esempio utilizzo una modalità standard, però potete avere ad esempio dei colori particolarmente vividi. Non so quanto si veda la differenza in fotocamera, vedete come in questo caso diventino un po' più aggressivi i colori con la modalità super vivid. Avete il bilanciamento del bianco. Tempo fa c'era stato un periodo di grandi discussioni sul bilanciamento del bianco dei display di Sony. E quindi questo essenzialmente è stato utilizzato per spazzar via ogni polemica. Possibilità di migliorare la riproduzione dei video grazie alla tecnologia X-Reality che rende davvero la riproduzione su questo display un piacere per gli occhi. Anche se non è un display AMOLED. E poi vedete queste sono le icone che potete essenzialmente mostrare di sistema nella barra di stato. E poi screensaver, avete davvero tantissime possibilità di personalizzazione. Quello che non c'è, che non c'è granché per quanto riguarda Sony invece, è l'utilizzo di gestures. Non sono mai state utilizzate tantissimo su questi telefoni e non viene fatto neanche in questo XZ Premium. Però uno degli elementi fondamentali di questo telefono è la fotocamera. Allora, 19 megapixel ma ha una caratteristica fondamentale che è quella della possibilità di fare un slow motion addirittura di 960 frame al secondo con un'immagine di 720 pixel. Vi mostro esattamente come funziona. Quando voi entrate, vedete, in modalità video, lo selezionate qua. La modalità manuale, la modalità fotografica oppure la modalità video. Oltre a queste avete anche la possibilità di scegliere tra alcuni effetti che vengono aggiunti alla fotocamera. Se voi entrate nella modalità super rallentatore, quando girate un video, vedete, io adesso ho fatto partire il videoclip, il momento che volete rallentare viene praticamente fissato in questo modo. Voi schiacciate, vedete, avete un secondo e otto di ripresa. Guardate, vedete, in questo momento viene applicato questo super rallent che si traduce in un filmato che al momento della riproduzione arriva fino a sei secondi. Diciamo che questo elemento della fotocamera è uno degli elementi fondamentali. C'è anche un altro aspetto, lo scatto predittivo, che viene utilizzato in modo automatico. L'algoritmo di questa fotocamera è in grado, essenzialmente, di capire quando sta succedendo qualcosa di importante, quindi scattare più di una fotografia in modo tale da poter, ad esempio, immortalare un soggetto in movimento. Diciamo che questo funziona se, ad esempio, dovete prendere un soggetto molto grande che si muove, qualcuno che corre verso il fotografo. Ad esempio, se ci sono degli oggetti molto piccoli che si muovono, un pallone da calcio, diventa un po' più difficile riuscire a gestirlo. Sentiamo un attimo insieme l'audio anche di questo telefono che, come detto, ha la riproduzione in stereofonia. Per farlo, magari, togliamo anche il Wi-Fi in modo tale da non dover, essenzialmente, soffrire rallentamenti dati dalla rete degli studi di Radio Number One. Vedete, io, premendo su Ascolta, accedo al player. Ci vorrà qualche secondo perché il player parte e possiamo sentire, essenzialmente, la qualità dell'audio appena lo streaming prenderà il via. Diciamo che il suono è buono, ma questo telefono ha una certificazione IP68 e questo vuol dire che, purtroppo, in alcuni casi, diciamo che l'audio non è proprio il massimo della definizione e neanche il massimo del volume. Adesso, magari, cambiamo, essenzialmente, canale per capire se riusciamo a... Emissione da questo punto e da questo punto, quindi un'emissione in stereo, ma, come sentite, non è un audio fortissimo e, soprattutto, non c'è una grandissima definizione né di alti né di bassi. Questo telefono conserva, tra l'altro, il connettore a 3,5 mm per le cuffie. Sulla parte inferiore, invece, ha un connettore USB Type-C, tra l'altro, di tipologia 3.1. Ha la possibilità di ricarica veloce, anche se, essenzialmente, non credo che lo userete molto, perché questo telefono presenta un'autonomia veramente molto interessante. Insomma, gli elementi fondamentali, ecco, non vi ho fatto nemmeno vedere la velocità di funzionamento del telefono, però vedete che la reattività è sempre molto alta, no? Vi faccio vedere, ad esempio, l'apertura della, scusate, della fotocamera in condizioni, insomma, in cui la fotocamera è spenta, quindi non è in background, vedete, apertura molto veloce. Peraltro, anche lo scatto è, scusate che sono ancora in modalità video, adesso riuscirò a fermare il telefono, ecco, vedete, ad esempio, la scrittura sul telefono è un pelo più lenta. Lo scatto è discretamente veloce, insomma, lo vedete per come si scurisce, essenzialmente, il telefono. L'unica cosa che ho trovato è che, utilizzando video e fotocamera, anche l'XZ Premium tende leggermente a surriscaldarsi sulla parte posteriore del telefono. Non l'ho trovato fino adesso un problema insormontabile, però è da segnalare. Arriva a 769 euro sul mercato rispetto ad altri prodotti, forse con le cornici così grandi, con questo genere di dimensione generale. sembra un telefono un po' datato, però secondo me è assolutamente un prodotto molto interessante, promosso da Mr. Guy.